Il nuovissimo brawler janet è arrivato su brawl stars andando a usarla ulti noi possiamo volare grazie al suo jetpack ma cosa succede se vogliamo in acqua cosa succede dal momento in cui a terra soprattutto e quindi eccoci qua sono andato a creare una mappa piena d'acqua a parte per questa isoletta quindi ora devo prendere molto velocemente la ulti sperando di non creparci ma direi che non c'è pericolo ok abbiamo preso la ulti la vado a utilizzare vado molto lontano e vediamo un po' appena finisce la barra gialla cosa succede Ah vengo teletrasportato di nuovo nell'isola però aspetta magari c'è un modo per andare ancora più in là e vediamo se cambia qualcosa qua sono più lontano rispetto a prima no però ritorno nell'isola riprovo per l'ultimissima volta vediamo un po' vado oddio sono anche i meteoriti lasciamo stare vado su 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 e niente ritorno nell'isola basta